Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala stampa dello Stadio Seneto. Buongiorno a tutti e benvenuti in un saluto anche a tutti e benvenuti a ascoltare la conferenza e non porre domande ai nostri relatori. Allora, è stata una settimana molto importante per l'Agragas, il padrone Deni ha chiuso operazioni di mercato grigianziale e tecnico molto importanti e sono qui con noi il nuovo direttore generale dell'Agragas, Graziano Strano, poi c'è anche il nuovo direttore dell'Agragas, il signor Marco Coppa e c'è anche il responsabile dell'area tecnica Santo Russo, è presente anche il nostro dirigente, il nostro medico, il padrone Giuseppe Deni. Ci organizziamo così, diamo spazio a chi effettua la conferenza stampa e poi le domande dei colleghi giornalisti. Dono subito la parola al padrone Giuseppe Deni. Prego Presidente. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, siete numerosi e oggi ritengo che sia la prima conferenza stampa dell'Agragas in Teviedi che dovrà aprire un nuovo ciclo, speriamo che questo ciclo sia un ciclo positivo. Oggi io mi pregio il piacere di conoscere ufficialmente il mio stato tecnico che sarà composto dal direttore generale Graziano Strano che tutti noi conosciamo, persona con più importante che ha deciso di fare questo percorso per noi. Il direttore dell'area tecnica sarà Santo Russo che portava lo stesso ruolo a Cereale, anche lui proprio importante che anche lui ha deciso di iniziare questa avventura nei semiprofessionisti insieme a noi, insieme a Vainas. E poi l'allenatore, il nostro frontman, Marco Coppa, l'allenatore giovane. Io personalmente l'ho voluto scegliere perché solo mi hanno parlato molto bene delle sue qualità perché non ho seguito io il campionato della Sicilia orientale, lui allenava il Taormina. Però ho visto delle partite, ho visto come fa giocare la squadra, mi ha impressionato positivamente e ho deciso che il nuovo ministero e il nuovo frontenente dell'Aire sia lui. Anche perché quest'anno vogliamo fare una squadra giovane, molto giovane, di giovani campioni e lui secondo noi è la persona di Giro. Abbiamo anche, faccio anche qualche altra comunicazione di servizio, abbiamo confermato il direttore dell'area sanitaria e club manager, il nostro estetolo Frasseppo, che qualche anno indietro mi disse che era il miglior acquisto che io avessi fatto e mi pare che questo sia rivelato così perché è stata una figura importante e fondamentale per l'Aire, poi il responsabile del marketing che sarà il figione tra Gero Buclelli. Io vorrei iniziare questa conferenza stampa andando un po' a riposo. Io sono stato presidente dell'Agregas nel lontano 2006-2007 e quell'anno ho preso un agregas che era proprio alla deriva, c'era il presidente Gero Buclelli e l'amrenatore Gero Buclelli. L'ha preso la squadra quasi a fine campionata, salvando il titolo l'anno successivo abbiamo fatto un campionato stupendo, siamo arrivati i secondi in classifica, abbiamo vinto la coppa di giugno. Poi mi sono indeciso di, dopo qualche performance che ho fatto a lui in casa, a lui in perutina, qualcosa come Favara, di ritornare a fare il presidente dell'Aiga, che si tracchiera la squadra che io ho tifato da bambino. Io quando entravo da bambino all'esseneto ero emozionato e oggi ne sono il presidente, ne sono l'azionista di maggioranza. Per cui, ripeto, successivamente, ritornando a fare il presidente dell'Agregas, mi sono impegnato con la città statistica, e ho detto che era mia responsabilità, insieme alle figure che avevo scelto, di fare ritornare l'Agregas nella categoria che più li conveteva. Il primo anno abbiamo sfiorato per un velo la promozione, siamo arrivati i secondi dopo il 30T, abbiamo perso la finalissima del play-off, e l'anno successivo, come avevo promesso alla città, abbiamo vinto il carbonato e oggi apriamo un nuovo ciclo di questa Aereas che è un'Agregas che è tra l'Alas e il D, il semiprofessionismo, che aprirà un'era nuova, io ripeto e mi auguro che sarà, diciamo, l'inizio di un progetto che ci possa portare nel professionismo. Mi corre l'ombrico ringraziare tutti colori quali hanno fatto parte di questa Aereas, del relatorio, del fatto tecnico, che rimarranno sempre nel mio cuore, perché tutti compresi hanno dato un contributo positivo e effettivo a questa società e tutti quelli che sono passati sotto la mia presidenza, io riconservo all'interno del mio cuore e ho una parola veramente positiva e importante per loro, loro faranno sempre parte della storia dell'agregassi, però oggi si apre un'era nuova, oggi è l'agregassi di Deni, è l'agregassi di Shano, è l'agregassi di Russo, dell'agregassi di Coppa, di tutti quelli che percorreranno un nuovo cammino che ritengo debba essere un cammino che ce ne deve portare dove noi ci meritiamo, come città e come basso. Io non voglio tagliare con discorsi molto lunghi, volevo solamente fare un appunto, oggi si incomincia a parlare di mercato, si incomincia a parlare di che agregassi sarà, noi abbiamo già confermato il capitano dell'agregassi per un sforzo che è Cipolla, giocatore importante, potrà essere un giocatore importante anche un tifoso dell'agregassi, per cui questo è un po' il valore aggiunto. Ora insieme con dell'area tecnica vedremo quali sono i profili che interessano per l'agregassi del futuro, però io ci tenevo a fare una precisazione, nella vita di una società carcistica tutto passa dalla società minimale, per cui voi dovete tenere sempre presente un fatto che i giocatori giocano per interesse, molte volte non hanno ancora, io credo che Cipolla sia uno dei voti, però tutti gli altri guardano l'aspetto economico, per cui qualsiasi cosa noi faremo, qualsiasi cosa decideremo, la faremo nel bene in funzione di quelle che sono gli interessi dell'agregassi. Per cui, ripeto, io ho, con i fatti, nelle due epoche che ho fatto il presidente dell'agregassi, gli ho dato dei segnali positivi, ho portato un'agregassi ad essere rispettata come il basone, abbiamo fatto campionato importante, io vi prometto che anche questo campionato sarà un campionato più importante, voi dovete avere fiducia al vostro presidente, e oltre a essere il presidente è anche un tifoso dell'agregassi, per cui qualsiasi mia azione e qualsiasi cosa io farò sarà indirizzata a un obiettivo, il bene dell'agregassi che nei tempi tecnici che saranno fisiologicamente necessari porteremo questa maglia, questo basone, dove ci sta. Ecco, questo che sia molto chiaro, per cui non voglio alimentare le polemiche dei prossimi giorni, chi riconvergiamo, chi prendiamo, chi non prendiamo, perché dovete sapere che i giocatori, molti giocatori, molte volte, non sono tanto, diciamo così, fanno solamente loro interesse, non pensano che una società gli ha dato un palcoscenico, gli ha fatti maturare, gli ha fatti stare bene, finito il campionato poi diventano tutti sindacalisti e incominciano a fare riprese che molte volte le società non possono accettare, io non posso accettare, per cui se ci saranno dei profili che noi non riconvergiamo, non è che li studiugiamo dal punto di vista del loro valore, ma possibilmente ci saranno richieste che secondo noi non devono essere, non possono essere accettate, ecco, questo per una forma di chiarezza 360. Noi faremo una squadra importante, faremo un campionato, riteniamo di assestamento, però tenete presente che il calcio è bello perché alle volte è là degli imprevisti, cioè ci sono delle partite che si giocano con squadre importanti, poi la squadra importante perde, la squadra importante vince, per cui noi vogliamo fare una squadra importante con i giovani che riterremo di valore affinché crescano insieme a noi. Noi siamo giovani nel senso non commentare, però siamo giovani, perché ci affrontiamo i primi campionati, io sono stato anche presidente del Romulese, che è una squadra di Serie C professionistica, però era la mia prima performance, e io voglio crescere, ho lasciato il Romulese, voglio crescere insieme all'Iras e fare professionismo insieme all'Iras, per cui vi chiedo di avere la pazienza e vi chiedo la fiducia di aspettare che noi operiamo e poi in base ai fatti ci giudicherete. Io ho sempre avuto uno sbrogante, le migliori parole sono i fatti, per cui vi chiedo, vi faccio operare in franquoli di fa, e poi ci giudicherete con i fatti. Io vi ringrazio e sono una colposta. Grazie. 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 ci resta con parecchio per sé, quindi già da tre anni potevamo essere inseriti, siamo stati fortunati questa volta a parte della concorrenza, ancora l'Ena domani giungerà a Siracusa e noi invece già siamo inseriti da più di un mese, per cui invito la cittadinanza a stare vicino, qualche scivolaria ci sarà perché è un anno diverso, come ricordavo quella volta, loro non c'erano i nuovi, negli ultimi quarti, il vero fortivo di essere letto, pur magari non essendo sempre teno i tifosi, ha fatto sempre paura, ricordo agli nostri ospiti che sono ora la loro presenza, che l'Agri ha perso una sola partita negli ultimi cinque anni in casa, quindi penso che dalla Serie A, forse da scuola che fanno la cittadinanza, trovare una società che perde una partita in casa, in giro grande, è molto difficile, per cui l'augurio che devo a tutti, star vicino e forse da scuola, grazie. Grazie. Allora, dire le solite frasi, le toniche, le mozioni, le mozioni, le mozioni, in questo Mi dispiace per loro, oggi ci sono io. Chi è Graziano Strano è il progetto Atrev. Io, come Presidente, persona che non c'è niente da dire perché un grazie è dovuto a un uomo che l'anno scorso ha speso delle economie, e come diceva il dottore, anche Elena, spesa delle economie, che ha allenato da un amico mio, da mio fratello, ha sbagliato una partita, meglio per lui. Meglio per l'Agracass perché sono in Agragas, quindi qui, peccativi, perché sono partito. Cosa dire? Il progetto Agragas è alla vista di tutti. Io ho visto diversi commenti, in particolare il Presidente, siccome sono molto particolari in queste cose, smarchiamento, svecchiamento, l'Agracass non Agragas, l'Agracass è viva. L'Agracass l'anno scorso ha speso tanti soldi, però è riuscita ad ottenere quello che è la cognata promozione in Serie D. Oggi c'è la Serie D. Cosa significa? Io sono venuto qua per fare il freddino, non me lo merito, dopo 15 anni di onorata carriera, sull'occhio di tutti, vengo in Agragas perché c'è un progetto importante dove racchiude il coinvolgimento di tutto l'Agricentino, non solo la città di Evigento. Io invito tutte le persone che amano l'Agracass a starci vicino e farci lavorare. Poi l'errore ci sarà. Io faccio il direttore generale, non sono lo stereotipato direttore generale, io darò voce a chi mi vuole parlare, sarò H24 in Agrigento. Per me i tifosi sono fondamentali, come è fondamentale gli imprenditori, come è fondamentale chi ama l'Agracass. Quindi io sarò open day, ascolterò tutti, parlerò con tutti, non avrò le stesse idee, è poco ma sicuro. Non avremo le stesse idee, però avremo una direzione, che è quella di portare l'Agracass dove venga. Il Presidente mi ha insegnato di questo incarico, io ne sono, ripeto, non è frase di fatto, chi mi conosce e chi mi conoscerà capirà che io sono laico, è bene o nel male, tante volte nel male, perché mi ha facciato le conseguenze, per essere vero. Sarò il timoniere del gruppo di lavoro del Presidente. Quindi mi assumo tutte le responsabilità, il mio gruppo lavorerà in sinergia, quando sbaglierà il mio gruppo sbaglierò io, non sbaglieranno gli altri, io. Quando indominerà, indominerà molti uomini, quando il mio gruppo sbaglierà, sbaglierà di loro, io lo difenderò, ma poi il giorno dopo non lo vedrete più in Agregas. Lo dico apertamente, perché le cacce restano a zero. Chiama l'Agracass, devi iniziare a capire che questo signore qui ci ha portato, vi ci ha portato, con le sue economie e di tanti altri. Adesso cerchiamo di blindare questa categoria per quest'anno, con un progetto lungimirante. Il progetto non è oggi ci siamo, domani scompariamo. Assolutamente no. Progetto che il Presidente ha lasciato di molese per tornare in Agregas. Questo è un passaggio che deve tranquillizzare la piazza di Aprile. Ci sono tanti personaggi che ho conosciuto in questi giorni che mi hanno accolto in una maniera bellissima. Io credo che l'Agregas non metti neanche la Serie D. Non voglio dire che dobbiamo andare in Lega Pro, perché per quest'anno dobbiamo stabilizzarci. E dobbiamo ritornare, dovete ritornare, ad amare sempre di più la vostra Virgen. Noi saremo qui, io sarò qui. Il progetto è bello, il progetto è carino. Una società che ha debiti zero, una società che ha un pullman di proprietà, che non va a spendere soldi a testa e a manca, una società che ha degli impianti a disposizione, speriamo che l'amministrazione ci dia un'ulteriore mano, perché per lavorare abbiamo bisogno di impiantistica e di location. Abbiamo pullman, abbiamo voglia di fare un'accademia, abbiamo voglia di sviluppare un lavoro, però da soli poi diventiamo chiacchieroni se non ci aiutano. Se non ci aprono le porte, non direi che io busso alla porta, prima mi critico, io ti busso e tu non mi hai. E ti stanno parlando, si dice a Catania. Quindi io dico, l'Agracass è un me di agrigenti. Io oggi sono in Agragass e fino a quando avrò l'onore di rappresentare l'Agracass, andrò in qualsiasi posto si debba andare per portare alto il nome dell'Agracass. Sarò, ripeto, pronto ai confronti, educati. Non intendo, non intendo parlare mai con minacce, con doppi sensi. Parliamo live, parliamo tutti quanti, guardiamoci in viso, io ci sono, non mi sono mai nascosto in vita mia, le scelte che sono state fatte, le ha fatte il Presidente e da oggi questi signori che sono tutti vicini al Presidente accocchiamo 105 anni, giusto perché io ho 56 anni, 45, 35, quello è il cucciolo della famiglia, quindi teniamo gli stereotipi che vengono i fenomeni, qua fenomeni non c'è, c'è gente che è venuta a lavorare, è venuta a lavorare per l'Agracass, è venuta a lavorare per il padronei che ci ha dato la possibilità di essere invidiati, perché siamo invidiati in questo momento, io ho ricevuto un milione di telefonate da gente che credevo che fosse morta, che aveva 25 anni, non mi chiamavo, bravo direttore, ma chi è? Erano morti, 25 anni di... mi hanno chiamato da un uomo, ora perché mi chiamano? Perché sono in Agracass. Devo dare, e devo fare, Presidente, questo lo devo, ringraziare per la mia scelta, purtroppo di cuore, di ecocentrico, di carriera, io avevo un accordo con l'alternario Catania del dottor Franco Pro, che mi aveva blindato, devo ringraziare il parco Pro, Damiano Pro e soprattutto Giancarlo Napoli, che è il Presidente onorario di questa squadra, che mi hanno dato la possibilità di dire direttore, vai, perché sei andato alla vicenda. Io con questo vi dico, uniti, tutti insieme, io ci sarò, riceverò tutto quello che volete del bene e del male, Grazie Mostrano e il Direttore Generale dell'Agragas, Grazie Mostrano e a disposizione vostra. Grazie. Adesso una parola, siamo benvenuti a Casarigas, al nuovo responsabile dell'area tecnica Santo Russo. Grazie. Sono onorato di essere qui con questa famiglia. È arrivata la chiamata dal dottore Strano, sapendo che io volevo, volevo, cercavo qualcosa di importante, qualche chiamata di importante. Ero in attesa, diciamo, è arrivata, mi ha proposto al Presidente D'Eno. Ci siamo conosciuti, il Presidente siamo rimasti, mi ha conosciuto, ne abbiamo parlato. Quindi, scusami, mi sanno perdonati. Quindi, se riesco a farò per me, mi ha parlato. Mi ha parlato e il Presidente si è convinto a darmi questa possibilità. ai molti sembra, chi è questo? Cosa ha fatto? Io so che ho una responsabilità, non copro nessuno, ci metto la faccia e sono pronto a spendere questa responsabilità. Costruiremo una squadra giovane, una squadra che ha fame, ha fame, deve lottare, sudare la maglia. Abbiamo già dei profili, magari non è il momento giusto per dare il nome, in questo momento, non direi il nome, ma sappiamo cosa serve e sappiamo cosa cercare. Grazie, grazie a Sancto. Ascontiamo e benvenuto al nuovo moderatore dell'Agracast. Grazie. Mi sono emozionato anche perché devo dire che il primo giorno che sono stato digitalizzato all'Agracast io ho ricevuto una marea di messaggi da parte dei tifosi che mi hanno assolutamente emozionato. E proprio per questo devo dirvi che non è come si dice a Catani, io sono a Catanese, non è una ruffianeria, ma mi avete fatto in maniera da subito. Diamo ringraziare voi con la diretta e voi ringraziare il Presidente Elena, il Direttore Graziano Strano tutta la società perché mi è venuto fortemente non si può dire di nuovo all'Agracast io sono arrivato dall'Igento e in mezz'ora abbiamo fatto un attore ho una veramente bella responsabilità perché sto orientando una categoria di un campionato fatto dal Ministro per la nuova a quale vanno i miei complimenti e quindi ho una grandissima responsabilità però io ho scelto di fare questo mestiere e questo mestiere ha fatto anche di lunghe ha fatto di vittoria ha fatto sconfitte io sono innamorato del mio mestiere e quindi qualsiasi cosa arriverà io arriveranno a fare cose belle io le accetterò io non mi faccio fare promesse perché le promesse le devi pur mantenere l'unica promessa che mi va di fare è quella che certamente tenterete lavorare dalla mattina fino a prima di mattina che vorrei parlare ragazzi questa è una cosa secondo me l'unica ricetta perché le cose possono andare bene sono convinto che agonatori che vengono le partite soli non esistono esistono punti di lavoro dove tutte le componenti io parlo dal presidente ai magazziniere ai custodi ai direttori generali delle sportive ai calciatori allo staff tecnico se ognuno di queste componenti fa il proprio poca parte fa il proprio mistero lo fa bene allora io dico delle cose il risultato è più se una di queste componenti viene a mancare per qualsiasi motivo io allora dico che probabilmente le cose potrebbero non andare bene il calcio il calcio è un lavoro di squadra io dico sempre ai miei calciatori se abbiamo scelto di giocare a calcio abbiamo scelto di stare in un gruppo dove si può giocare 90 minuti si può giocare in un'ora si può andare in tribuna se questo vanno convocati altrimenti scegliamo di andare a tenis si giocava si giocava sicuro tutti e tutta la partita io ripanisco con me sono felicissimo di essere la natura di questa città perché so chi mi ha preceduto so chi si è seduto in questa puntina inevitabilmente inevitabilmente non posso essere felice e poi sono a vostra disposizione forzate grazie a tutti la sicilia che allora erano i primi anni quando parlavano di Roberto Busaglia possiamo dire che è stato abbastanza affrontato io le auguro buon lavoro e spero che lei possa percorrere veramente il viaggio professionale che ha fatto Roberto Busaglia io dico vorrei fare una domanda prima al direttore generale e poi anche a lei per l'evento duro che parola voi avete spiegato qual è la strategia dell'Acrias della serie D ho capito ho percepito anche dalle parole del nostro presidente che molte ricomperi non ci saranno per motivi diciamo più no 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 ci può essere qualche figura che fa nelle richieste che se possono essere anche nel mercato e questa figura può essere riconfermata è chiaro che la serie D ha dinamiche diverse ha un passo diverso e qui noi dobbiamo adeguare le figure a per la categoria io ho detto questo non ho detto che ci sono quindi non è una questione finanziaria no assolutamente non ho detto questo io ho solo detto che possibilmente nel contesto generale ci può essere qualche figura che noi avremmo l'esigenza di riconfermare e che se non riconfermiamo è dovuto al fatto che fanno una richiesta fuori mercato non tenendo presente che l'agregas gli ha dato la possibilità e il fatto scenico per diventare diciamo così grande è tutto che bisogna rivolgersi ad una rossa di caccia per i giovani questo è fuori dubbio perché con le nuove normative un 95 un 94 un 2.005 un 2.004 due le normative no mi perdoni no all'imbozzare un 2.005 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 allora ascolti dottore nelle economie di ogni società esagerissimo che il calcio lei conosce l'eccellenza è un campionato paralosamente più dispergioso della serie perché devo perché io sono abituato alle motivazioni e alle spiegazioni campionato di serie di devi mettere in rosa 12 13 under 12 13 under no 1 2 come fai in eccellenza metti il basso metterlo qua devi mettere tutta la squadra l'eccellenza mi dica lei la squadra che ha giocato con un attaccante fuori no assolutamente destra e sinistra tutti qua perché sono secondo loro sono i peribili della squadra in serie di vi andate a prendere 4 titolari di cui 4 sostituti di cui 4 negli poteri che non ti riesce il 4 non ti riesce quindi cosa succede? arriva una cosa che deve abbassare l'economia perché il calciatore che ti prendeva X in eccellenza si abbassa perché su quel ruolo io vado a prendere un giovane che mi va a costare molto di meno quindi non è che il budget dell'agracast non abbiamo le economie abbiamo delle economie per essere giuste vado a prendere il prodotto migliore giovane che mi possa dare la sofferenza di quel ruolo quindi significa che per scelte societarie sicuramente prima si siano fatto un lavoro non c'eravamo dove il calciatore X che prendeva Y si è convinto che doveva prendere Y non lo puoi prendere quanti in eccellenza e poi vice del campionato con noi no tu vieni a giocare in arca devi essere onorato per quello che fa bene qua si parla economicamente parliamoci di io sono questo vuoi 2.000 euro in più ma se vieni e mi vuoi a proporre 10.000 euro in più guardi la vostra noi non siamo disposti a queste situazioni noi siamo disposti a meticolosamente con il responsabile delle tecniche con il mister tutti quanti noi questo tavolo che voi vedete qui solo questo tavolo che vedete qui solo questo tavolo che vedete qui a portare in agra cazzo gente da agra giovane perché non è un progetto giovane mi dite la squadra che affronterà la serie T anche per vincere il campionato quanti under può mettere prendi 20 e poi devi andare a prendere 12 anni 32 e la si affossano non ciò più quindi iniziare dalla base iniziare dalle riconferme dello zoppolo duro io parlo sempre di un'esperienza calcistica di una di una di un paese della nostra provincia che è l'Udicata l'Udicata ha fatto la serie B categoria importantissima perché ha preso dei giovani e li ha fatti crescere tutti insieme e facendo questa scommessa è arrivata a giocare e con noi vogliamo provare a fare lo stesso ma diciamo che parolestemente ne parlavo in ufficio da te Presidente il legato quest'anno ha fatto questo ha fatto questo la sacca da destra se andate a vedere la formazione ha fatto questo quindi non facciamoci la testa ah non stanno prendendo il bomber ci sarà la punta di diamante ci sarà l'uomo di esperienza ci sarà ce l'abbiamo già dentro però attenzione signori miei sarà una squadra giovani e perché deve essere fatta bene bene grazie 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 ufficialmente il 24 ma abbiamo deciso il 24 io lo mi dico il 24 di Considerato quello che lei ha detto che deve essere così, perché per avere una squadra competitiva bisogna partire dai giovani e i giocatori già navigati saranno la guida. In funzione di questo lei ha già in mente i giocatori giovani di talento che potrebbero fare parte di questa società, non è di conferenza mia, ma essendo nato in una famiglia di malati di calcio il mio fratello è un calciatore e un allenatore con tutto il rispetto importantissimo per la Sicilia Quindi cosa succede? In Agragas ci sono dei talenti, dei giovani talenti, voi li sapete meglio di me Quindi partiamo dai giovani talenti, li andiamo in Agragas Dopodiché queste sono delle considerazioni in un tavolo tecnico che faranno il reparto tecnico che sarà il signor Santo Russo e il mister No Poi naturalmente in un tavolo di consulta ci sarà il presidente Temo, il direttore strano che dire ok ce la facciamo, non ce la facciamo, non ci interessa, certo è normale che un ragazzino 2003, 2004, 2005 non può venire a chiederci 1700 euro, 2500 euro, cose che io l'anno scorso ho visto in quelli draconi Lasciamo stare, punti Il ragazzino è bravo, bene, ci fideremo di loro, ci dobbiamo fidare di loro Ma si ricordiamo che ci sono ragazzini del 2003, 2004 e 2005 Quindi, vado a ritroso, non per chi ne abbia bisogno Quando X Tempore ti dice io, anche il ragazzino si fascia la testa Lo sappiamo tutti quanti, diventano giocatori, non parlo di giocatori dell'Agracast e dei ragazzini dell'Agracast In generale, diventano cambiato di eccellenza e diventano, e vengono col procuratore il 2003 Ma di che stiamo parlando? Ma di che parliamo? Adesso, sono una parendesi al proposito dei giovani C'è presente che l'Agracast è il giovane importante Poi io, nel dimettermi nel cedere le cose del Rimuolese Ho raggiunto un accordo, il Rimuolese faceva la serie C E aveva la Primavera 2, che è una categoria molto importante Per l'accordo che ho fatto con i nuovi proprietari Mi sono fatto dare un'offizione per portare i migliori giovani anche da Imola Laddove il mister e il direttore, diciamo, sportivo Ne avessero la necessità di portarli in Agragast Tenete presente che già ci sono dei giocatori che hanno fatto 10 presenti Per cui sono dei giovani importanti E poi, diciamo, la logica di attrazione che ha l'Agracast Ne comprende i giovani Perché l'Agracast è una società che ha fatto sempre il professionismo Ne parlano le medie nazionali E per un giovane fare parte di una della compaggine del Agragast E' un sogno Questa situazione la volevo fare In funzione dei giovani che gli arriveranno Lei che tipo di gioco vorrebbe attuare? Mi aspettavo questa domanda Quale gioco lui predilige? Chiederà magari le caratteristiche di questi giovani Allora, se dicessi che io non ho un'idea di un sistema di gioco Lo sarei, sicuramente più pochino Come fanno tanti loro colleghi Io ho un'idea che mi piace più di tutti gli altri sistemi E spererei di portare avanti quella Però è pure vero che io ho bisogno di conoscere a lavorare Per questi ragazzi capire anche quali sono le caratteristiche La loro disponibilità Per cercare di assimilare quello che voglio io E questo quando si dice A volte i principi e i concetti sono più importanti Della disposizione al campo dei giocatori E poi se si giochi a 4 Se si giochi a 3 in attesa E' quello che è più importante E' cercare di assimilare il prima possibile Quello che chiede il mister come concetto di gioco Come via di gioco Come via di gioco Però è pure vero che io ho in testa ciò La mia maniera di voler giocare E spero di trovare insieme al direttore Di trovare i portini giusti Con le caratteristiche che mi permetteranno di giocare bene Ma non vi ho conto Lei quindi è operativo da su Io Sento che non parlo di un piano Dio che mi iniziano a lavorare Già una settimana fa In funzione Si è iniziato a lavorare Siamo iniziando a lavorare Anche con il staff Che presto presenteremo Per cui Siamo già Lei il suo curriculum Da allenatore Come lo può sintetizzare Prima di arrivare qui all'Acre Spero Spero Di essere arrivato a Madagasc Nel momento Perché Io ho avuto tante esperienze Ma ho avuto Anche in piazze Abbastanza importanti Per citare qualcuno La RON Si è fatta No Di Giavre E' vero pure che I miei risultati più belli Che ho ottenuto a Palomina Sette anni fa E anche quest'anno Io spero di essere arrivato In un momento Ho meritato questa carriera E ho meritato l'Acre Perché Io ho già allenato in ZD Ma ho allenato purtroppo Una società che in quel momento Non viveva economicamente Non viveva bene Per cui Adesso spero di essere arrivato In un momento E approfitto Invece Per ringraziare Tutti i miei Parcelloni Che stanno In Palomina L'hanno fatto Un campionato Estraordinario Perché hanno sferato La Serie B E abbiamo sferato Con un budget Che era la metà Rispetto a Qui invece Poi Ha vinto E sta ancora Compattendo per vincere Il campionato Ed è giusto Che il ringraziamento Se sono qui La Anche in Banter Lei ha qualche Giocatore di talento Magari giovani Che porta qui A più di gente No Si Che lo portano Non so Buon lavoro Grazie a tutti